Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Ragazzi, quest'oggi andremo a vedere come ottenere tre importantissimi cristalli Z, ossia lo Snorlactium Z, il Miumium Z e ragazzi il Marshalium Z. Questi tre cristalli ragazzi però saranno ottenibili solo una volta che avrete in squadra i Pokémon legati ad essi. Di conseguenza nel video di oggi non andremo a vedere come ottenerli fisicamente, ma vi mostrerò semplicemente il luogo e la persona alla quale dovrete parlare per poterli ottenere, perché sì, si tratta di un luogo preciso e di una persona precisa. Questo luogo ragazzi è l'hotel di Kantai. In questo luogo per l'appunto in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sono state aggiunte diverse camere, dove tra l'altro ci sarà anche un altro evento del quale andrò a parlare in un video futuro. Entrando ragazzi nella camera appena a sinistra dell'ascensore, ci sarà un uomo molto particolare che sosterrà di possedere un negozio, di aver posseduto comunque un negozio in passato, nel quale giravano particolari pietre. E ci darà proprio lo Snorlaxium Z, il Mew Nium Z e il Marshadium Z, aggiungendo poi di seguito che se si vorranno ottenere questi cristalli Z, basterà portare a questo uomo i Pokémon designati. Quindi se voi avete in squadra uno Snorlax, un Marshadow o un Mew, cosa molto difficile per il momento visto che il gioco è uscito da davvero poco, in questo luogo potrete andare ad ottenere i loro peculiarissimi cristalli Z e quindi utilizzare le loro mosse Z. Io sinceramente ragazzi volevo esprimere comunque una sorta di astio rispetto a questa cosa, perché comunque sono cristalli Z importanti e secondo me come cosa è abbastanza banale, però ciò nonostante ragazzi è così che si ottengono. E quindi se volete ottenerli, vi basterà seguire le procedure che vedete in questo video che ho fatto io, oppure semplicemente andare all'hotel e parlare con Satizio, avendo Mew, Marshadow o Snorlax in squadra. Ovviamente io non avendocele in squadra e non potendoceli avere probabilmente per un bel po' di tempo, non ho ottenuto fisicamente i cristalli, ma fidatevi che il procedimento è questo. Detto ciò ragazzi, io spero che questo brevissimo video vi sia stato utile, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un iscrizione al canale per vedere sempre altri tutorial o curiosità riguardo Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Mi raccomando ragazzi, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e sulla mia avventura nei giochi e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!